La storia di un uomo profondamente giusto che non si è reso alle logiche colluse tra camorra e politica locale, che ha resistito ancorato a quel sogno di restituire ai suoi concittadini una campagna libera e civile. Un uomo fortemente legato alla comunità di Pagani, sua terra di origine che lo vide anche assumere la carica dei sindaco. Parliamo di Marcello Torre, sindaco di Pagani ucciso dalla camorra l'11 dicembre del 1980. Vi abbraccio forte al cuore l'evento che ha coinvolto in un momento riflessione sulla figura del sindaco. Gentili alcuni istituti scolastici campani, alla presenza di diversi sindaci della provincia di Salerno e non solo. Un'iniziativa curata nell'aula Giancarlo Siani del Consiglio regionale della Campania a Napoli, dall'Associazione Marcello Torre e dalla Fondazione Polis. Presente anche Anna Maria Torre, figlia di Marcello Torre. Così deve essere ricordato come esempio di virtù e di come si amministra la cosa pubblica, tenendo insieme il bisogno dei cittadini e il rispetto delle regole della Costituzione e della legge. A volere la morte di Torre fu Raffaele Cutolo, a capo della nuova camorra organizzata. Torre che nell'arco della sua carriera da avvocato mai interrotta era stato oltre che sindaco di Pagani, anche vicepresidente della provincia di Salerno, rimase ucciso in un agguato di due sicari di Cutolo, colpevole di aver ostacolato gli sporchi affari della criminalità nel post-terremoto dell'Irpinia, con atti concreti come la creazione di un comitato di gestione di incarichi e funzioni di pari livello tra i partiti. Sentiamo le parole del presidente della Fondazione Polis, Tonino Palmese, della preside dell'Istituto Ferraioli, Rita Pagano. Ricordiamo Marcello Torre perché è stato un modello dal punto di vista umano, familiare, politico e culturale. Rispolverare un po' tutti questi personaggi che hanno lottato per la legalità è importante non dimenticare perché la memoria è molto importante e quindi lo dobbiamo trasmettere come senso morale ai nostri giovani.